Lingue diverse urlano pace, i responsabili non pagano mai, mentono, feriscono, uccidono. Fra tante atrocità abbiamo creato la musica che esalta cuori e mani, forse un po' siamo perdonati. A tutto è comprensibile, rende meno terribile ogni scena, anche il soldo Beethoven continuava a comporre come le restanti rite di Django Reinhardt. Oggi c'è Nicola al mio tramonto e respiro sulle note di Vinicius mentre al pianoforte uso le mani di Matteo. Non servono più parole, gesti, sguardi, spesso incomprensibili e fugaci. Resta invece, e tutta intera, la colonna sonora di ciò che volevo dire e dare alla mia vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.